Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dedicata all'estrazione del Super Analotto. Chi possede oggi, giovedì 3 settembre, la ricevuta della giocata del Super Analotto può vincere 13.671.673 euro. Sono già iniziate l'operazione relativa al concorso numero 106. 90 sfere numerate per l'assistina vincente e il numero jolly sono state caricate. Con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo il via l'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urlo elettronico e inizia il loro mescolamento automatico. Vieni siamo a scoprire il primo numero dell'assistina vincente. Il primo numero estratto è il numero 78. E in arrivo il secondo numero. Secondo numero estratto è il numero 18. Dal terzo numero si inizia a vincere. Il terzo numero estratto è il numero 19. E in arrivo il quarto numero che ci porta verso i premi importanti. Quarto numero estratto è il numero 87. Quinto e benultimo numero. Quinto numero estratto è il numero 13. Con il sesto numero la sessione è completa. Il sesto numero estratto è il numero 49. Abbiamo messo i numeri che possono assegnare il jackpot. Passiamo ora all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria. Il numero jolly di questa sera è il numero 45. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 78, 18, 19, 87, 13, 49, numero jolly e numero 45. Ora passiamo al numero super stare. Il numero che ciascuno di voi può scegliere e che viene assegnato casualmente dal terminale di gioco. Già al momento della convalide della giocata può far vincere i premi istantanei da 5 euro fino a 10.000 euro. E la sua estrazione verrà grazie a questa seconda urna elettronica già caricata con le sfere dall'1 al 90. Procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che il numero super star preghi anche lo 0, l'1 e il 2 moltiplica 25 volte le vincite del 5 e 100 volte quelle del 4 e del 3. Numero super star di questa sera è il numero 22. E controlliamo insieme tutti i numeri del concorso numero 106 del super analotto con la sestina vincente in ordine crescente. 13, 18, 19, 49, 78, 87, il numero jolly è il numero 45 e il numero super star il numero 22. E l'estrazione di oggi, giovedì, 3 settembre termina qui. Fra qualche minuto scopriamo insieme se il jackpot di oltre 13.600.000 euro è stato assegnato a uno più vincitori. e noi vi aspettiamo sempre qui su Sysa TV, la rete in diretta con la fortuna. Ben ritrovati su Sysa TV, la rete in diretta con la fortuna. Pochi minuti fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti del concorso numero 106 che vi ricorda avesse in palio il jackpot di oltre 13.600.000 euro. E anche questa sera il super analotto ha numerosissimi premi per voi. Infatti abbiamo 62.342 vincite. Ma ora è arrivato il momento di scoprire insieme se ci sono uno o più vincitori del jackpot. E il computer ci comunica che non è stato centrato il 6 nel 5 più 1. I 5 sono 2 e vincono 91.960 euro ciascuno. I 4 sono 606 e vincono 314 euro ciascuno. I 3 sono 23.327 e vincono 16 euro ciascuno. Ora passiamo a superstare il numero stella che moltiplica le vincite del 5, del 4 e del 3 e premi anche con 0, 1 e 2 punti. Vediamo nel dettaglio tutte le quote. Nessun 5 stella. Nessun 4 stella. I 3 stella sono 103 e vincono 1604 euro ciascuno. 100 euro vanno i 1858 due stella. 10 euro agli 11.830 uno stella. E 5 euro e 24.616 zero stella. E ora è arrivato il momento di scoprire insieme il jackpot del prossimo concorso. 14.100.000 euro. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi e il Sopronalotto vi dà appuntamento sabato, 5 settembre, sempre qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna. Grazie. 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 Grazie.